Siamo con Simone nella parte alta di Piazza Sant'Agostino, commerciante della zona. Tramite Facebook ha denunciato una serie di problematiche in questa piazza, che in realtà è nuova, ma è già ampiamente danneggiata. Che cosa hai voluto denunciare? Niente, ho voluto denunciare che in questa piazza, come avete visto nelle foto su Facebook, c'è già tutte delle rotture pericolose, sia per la gente che per i bambini che frequentano questa piazza. In più ci sono queste macchine che passano di continuo e che mettono comunque sempre in pericolo i bambini che sono qui in questa zona. E tutte queste rotture che ci sono qui in questa piazza fanno sì che la gente ci cada anche più facilmente. Quindi se possono venire a giustare ci fanno un piacere enorme. Ecco, diamogli un'occhiata a queste rotture, questo scalino qui che porta la chiesa innanzitutto. Questo scalino qui che porta la chiesa, come vedete è tutto rotto, quindi un bambino che magari gioca qui può cascare e si può fare anche male, ovviamente. E si vede che anche il resto dello scalino ha ceduto un po'. Il resto dello scalino ha ceduto come in altre zone e in più è stato riaggiustato in qualche modo. Come vedete quello è più pericoloso di prima perché la gente ovviamente di notte non lo vede magari perché non è neanche illuminato bene. Dalla denuncia che hai fatto ieri avevi segnalato anche un altro punto che sono venuti in qualche maniera ad aggiustare subito dopo la denuncia che tu hai fatto. Sì, stamattina abbiamo trovato l'altro pezzo che si era staccato e l'abbiamo trovato rimesso a posto, quindi qualcuno comunque è passato stamattina. Quindi quello già fa piacere che si sono interessati. Ecco, resta il fatto che questa piazza nuova, molto diversa ovviamente rispetto a quella di prima, ha delle problematiche che non sono risolte. Sì, purtroppo qui c'è una zona pedonale dove comunque è pedonale per modo dire perché noi vediamo tutti i giorni le macchine che passano da questa zona e il pilottino che dovrebbe alzarsi in questo momento è rotto, non si alza, quindi anche qualcuno che esce dal negozio rischia di essere investito. Invece per quanto riguarda questi piloni in cemento che sono stati posizionati non bastano a fermare le auto? No, no, non bastano perché ci sono questi panettoni, come li chiamano loro, che hanno messo il comune che la gente li sposta tranquillamente e poi passa senza problemi. E quella mattina quando arrivate in negozio, insomma, come la trovate la piazza? Evidentemente ci sono scorribande anche notturne. Sì, spesso, visto la notte, visto che è frequentata molto da gente di notte per via dei locali che giustamente lavorano, però la gente qui lascia bottiglie di vetro, lascia tutto, la mattina noi abbiamo già fatto altre denunce sotto questo punto di vista. Queste bottiglie di vetro sono anche pericolose, se qualcuno le prende comunque le può tirare e farsi anche male.